buongiorno a tutti ragazzi oggi si ritorna a casa detto questo incomincio a rifarmi le valigie e poi sveglio a tutti gli altri ehi marcus forza dai sveglia dobbiamo tornare a casa buongiorno buongiorno oggi dobbiamo tornare a casa si lo so ma lo ricordo dai sistema di andiamo ok ragazzi noi siamo pronti so che i miei vestiti con la mia fascia non c'entrano nulla però dettagli adesso andiamo a svegliare le altre cioè gli altri ragazze forse ancora che dormite siete dobbiamo andare buongiorno anche a te bea come sempre sei molto gentile ragazzi scusatemi se vi ho svegliato in una maniera un po brusca urlando alle sede il mattino ma dobbiamo tornare a casa prenderemo l'aereo ok va bene ci vestiamo ok noi siamo anche pronte adesso vado a chiamare a lucas poi andiamo lucas forza svegliati dobbiamo tornare a casa buongiorno buongiorno lucas dobbiamo tornare a casa ok ragazzi noi siamo pronti a lasciare questo bellissimo hotel che ci ha ospitato per questi due fantastici giorni siamo stati davvero benissimo in questo hotel e siamo davvero felicissimi di essere venuti ma adesso dobbiamo tornare ognuno nelle proprie case ok ragazzi siamo arrivati in aereo finalmente la voce mi è ritornata perché stamattina mi sono svegliata completamente senza voce ma finalmente mi è tornata la voce può capitare in questi periodi di essere un po senza voce a me capita spesso è nulla adesso già siamo in volo appena arriviamo me riprendo scendere prego ok ragazzi andiamo forza siamo arrivati ok ragazzi eccomi sono davanti alla porta di casa e niente ragazzi davvero grazie mille della compagnia mi sono sono stata benissima in questi giorni con voi e ho apprezzato molto che tu lucas anche se magari nei video non si è riuscito a vedere ti saprete ti si è aperto molto con noi tre oltre con la tua ragazza perché sappiamo che non è nella tua indone quindi sono davvero molto contenta di questo di voi due vabbè siete le mie migliori amiche che vi devo dire cioè vi adoro e lei lei proprio lei luna si cambierà di scuola e verrà nella nostra scuola quindi sono troppo felice forse verrà anche lucas non lo so vedremo è nulla ragazzi non lo so un bacio e ci vediamo ciao anche te marcus che devo dire a fare tu sei tutto è nulla ciao ciao a tutti ragazzi casa dolce casa vediamo dove sono i miei amori oddio ciao amori miei ciao tesoro ciao sorellona ciao piccolo mi sei mancato non sai quanto davvero mi sei mancato troppo 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 davvero sono sicura che se fossi stata con te mi sarei divertita ancora di più davvero mi sei mancato troppo ti amo anche voi due mi siete mancati tantissimo mamma tranquilla è andato tutto per il verso giusto non abbiamo fatto tardi la sera siamo stati benissimo ci siamo divertiti un sacco sono stata davvero benissimo con i miei amici marcus si è comportato bene papà tranquillo non mi ha deluso non ha guardato altre ragazze non ci ha provato con nessuna ha avuto occhi solo per me quindi state tranquilli entrambi perché sto rispondendo a queste vostre domande che sono sicura che voi mi avreste fatto se io già non vi avete tutte queste cose quindi già vi ho risposto a tutte le milioni di domande che volevate farmi perché io già lo so che me le volevate fare e quindi niente ha dato tutto benissimo e davvero sono super felice l'hotel era fantastico era qualcosa di super galattico abbiamo preso tipo due appartamenti perché siccome eravamo in tantissimi non ci bastava un solo appartamentino quindi compreso di due stanze un bagno e una cucina quindi ci siamo presi due appartamenti quindi un bagno una cucina e due camere in un appartamentino un bagno e una cucina e una camera nell'altro appartamentino dove ci ha dormito Lucas è il miglior amico di Marcus miglior amico amico non lo so in realtà che rapporto abbiano comunque davvero fantastico mamma cioè mamma e papà vi giuro fantastico hai finito? forse ho parlato un po' troppo però ho finito credo cioè per ora ho finito tesoro siamo davvero contentissimi che ti sei divertita non speravamo altro siamo stati un sacco in pensiero questo non te lo nego ti abbiamo tartassato di chiamate e questo lo sai però davvero abbiamo sperato che tu stessi bene con i tuoi amici col tuo fidanzatino e placati ancora sono piccoli fidanzatino il suo migliore amico molto stretto sì papà tranquillo mamma stavi dicendo? niente stavo dicendo appunto insomma anche se siamo stati tantissimo in pensiero perché sai come siamo io e babbo anzi come che ti abbiamo lasciato andare ancora non ce lo spieghiamo però siamo felicissimi che tu ti sia divertita e sia andato tutto bene e tutto il resto cioè siamo felicissimi io invece lo so perché l'abbiamo lasciato andare perché noi ci fidiamo ciecamente di lei e quindi siccome sappiamo che ragazza è che ragazzina l'abbiamo lasciata andare perché abbiamo 100% di fiducia su di lei e quindi sono cose che si fanno con i ragazzi prima o poi devono crescere e i genitori devono avere fiducia perché sennò non cresceranno mai del tutto esattamente hai proprio ragione comunque il prossimo viaggio abbiamo deciso io e papà che lo farai con questa pulce sorella domani partiamo domani partiamo cristian calmo 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 mamma papà calmi questo viaggio sembra che mi abbia fatto totalmente il lavaggio del cervello e poi tu papà mi meraviglio del discorso che hai fatto cioè questo discorso era più da mamma cioè da lei da Asia non da te papà tu non gli fai mai questi discorsi così di libertà che io ormai sto crescendo cioè che cosa è successo? narrami raccontami non è successo nulla semplicemente ho detto quello che è giusto fare quello che non vorrei fare ma quello che ormai è giusto lasciarti fare mamma ma che hai dato a mangiare in questi giorni che sono mancata? in realtà penso che abbia fatto male qualcosa eh sì lo penso pure io comunque adesso mamma ho una certa fame so che sono le nove del mattino perché comunque col viaggio tutto uguale sono fatte le nove però io non ho fatto colazione quindi mi prepareresti qualcosa ti prego mamma sì ti prepari il pancare con la nutella nel latte sì ti prego lo voglio anch'io te lo sei mangiato dieci minuti fa e dai ora tu detto che oggi sei tutto filosofico mi devi dire come faccio a dirgli di no non puoi faglielo ecco appunto ve lo sto facendo perfetto adesso fate colazione vi ho fatto sedere vicini perché da tanto che non stare insieme quindi ho fatto sedere vicini e nulla fate colazione grazie mamma ti giuro in questo periodo abbiamo mangiato solamente schifezze in questi due giorni solo schifezze sempre hamburger patatine fritte patatine alla pizzaiola pollo pasta ti giuro proprio veramente non voglio mangiare per tre mesi consecutivi ti giuro proprio non voglio non voglio mangiare pasta pane cibo spazzatura patatine non voglio toccare queste cose per almeno un mese mi voglio disintossicare del tutto perché a un certo punto anche se sono delle cose che totalmente amo mi sta venendo la nausea vabbè nei viaggi è normale lo so ma proprio letteralmente aiuto ok mamma adesso che ho finito di fare la colazione vado a disfare le valigie tu signorino vieni con me perché voglio stare un po' con te ok sorellona e allora topolino che cosa mi racconti mentre io disfo le mie valigie niente sorellona in questi giorni non ho fatto nulla mi sono annoiata a morte quando dico che senza di te me la passerei meglio perché tu mi stressi troppo mi rimangio tutto quello che ti ho detto perché senza di te non me la cavo per niente bene anzi mi viene la depressione e sono troppo felice di quello che hanno detto mamma e papà che il prossimo mio viaggio lo faremo insieme così non dovrò più stare da solo senza di te con quei due pazzi che mi hanno stessa tutto il tempo fai i compiti posa il telefono e non c'eri tu a difendermi come sempre proprio veramente una tristezza assurda vedere questa camera sempre vuota non sentire la musichetta quella stupida che ti guardi tu al pc e tutto quanto ti giuro una depressione assurda giocare alla play solo ridere da solo cioè proprio no 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 ma amore mio ma io ti amo comunque anche tu mi sei mancato tantissimo Cristiano ti giuro troppo mi sei mancato troppo non so davvero proprio una cosa assurda veramente per quanto io mi possa essere divertita sentivo come che non c'era una parte di me ti giuro e cioè madre quanto mi sei mancato e so che sono passati solamente due giorni ma sembri molto più grande molto più alto cioè ma è possibile che cresci da giorno in giorno non è giusta sta cosa cioè fra un po' diventi più alto di me e cioè la metà dei miei anni ma ti rendi conto che qualcosa non mi quadra qualcosa lo so sorella io non ci posso fare niente se sei nana senti non mi dire anche tu nana già ci basta Marcus che mi chiama nana è piccolina se ci metti pure tu a chiamarmi nana proprio no no scusami nana cioè volevo dire sorellona esatto tu chiamami per sempre sorellona mi piace troppo questo nomignolo ok va bene comunque adesso dato che ti è mancato giocare con me giochi con me come vuoi giocare play la monto subito perfetto sorellona adesso possiamo giocare sì ma mi devi dare joystick pure a me non è che puoi giocare solo scusami ok sorellona perfetto giochiamo amore si è fatta sera dovremmo andare decisamente a cenare quindi posiamo i joystick era questo il gioco no non era questo vabbè per ora posi i cd qui e andiamo dopo sistemiamo la stanza dai per ora scendiamo di sotto a mangiare dato che tu stessa mi avevi chiesto di disintossicarti si mangia uova e bacon easy grazie mamma oddio cioè che buono il sapore del cibo semplice da quanto tempo madonna santa e niente ragazzi allora questo discorso mi sento di farlo io perché da un bel po' di mesi forse anche un annetto siamo noi la famiglia che manda avanti talk award in questo canale ma adesso io voglio un attimino cambiare storia quindi questa storia di Asia Bea Christian e Luca finisce qui anche Marcus Marta è arrivata alla fine naturalmente naturalmente ce ne sarà una nuova che prenderà il posto di questa e spero che vi possa piacere incuriosire come vi abbiamo incuriosito noi spero che non sarete tristi per questa cosa e nulla cambieremo anche arredamenti in casa tutto quanto cambierà tutto cambieranno i nomi cambierà la trama cambierà il senso cambierà tutto e nulla vi vogliamo bene grazie di tutto ciao ciao ragazzi ciao ciao ciao